La figura del frate affaticato dalla malattia ma che tenacemente affronta il tiranno è l'immagine scelta per questa edizione del giugno Antoniano. In un tempo in cui la guerra affligge molte zone del mondo, che sembra essere sorde, i messaggi di pace lanciati anche da Papa Francesco nella sua ultima visita in Veneto a Verona, la figura di Sant'Antonio che in fi di vita affronta il tiranno Ezzelino è lo spunto di riflessione che accompagnerà i fedeli durante il mese Antoniano, con eventi che culmineranno con la festa del 13 giugno, a centro sempre il tema della pace. Ci sarà questa riflessione anche attraverso un pellegrinaggio, il primo di giugno, che vedrà toccare i tre luoghi Antoniani per eccellenza, Campon San Piero, Santuario dell'Arcella e infine appunto la Basilica del Santo. Quindi aneliamo alla pace attraverso il cammino, attraverso la nostra preghiera e anche attraverso la riflessione. Poi ci sono altre forme di violenza su cui vorremmo concentrarci, guardando proprio ad Antonio che ci invita a superarle, per esempio il tema della violenza contro le donne, su cui ci metteremo in ascolto, anche attraverso proprio l'immagine di Sant'Antonio che tante volte ha preso le difese di donne bistrattate all'interno delle loro case. In tutto ci saranno 25 eventi culturali, una ventina spirituali dal 24 maggio al 27 giugno, non mancherà il transito del Santo il 12 giugno e il 21 giugno il concerto testimonianza della band Christian Rock Reale sul Sagrato del Santo. Il finale spetterà i solisti veneti che si esibiranno in Basilica il 27 giugno.